In quest'ultima patch un esempio tratto dall'articolo scritto qui sopra, dall'articolo di Strauss, è stato ricostruito, per cui con due accordi, ognuno composto di tre note, abbiamo, valutando questa parte finale, la condotta delle voci, gli intervalli e l'offset. Possiamo verificare, cambiando qualche nota, come il risultato cambi. Lo riportiamo alla nota precedente e ritroviamo il risultato di prima.